Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi torniamo con un nuovo video di Evil Nun 2 Anzi, con un nuovo video dove parleremo di Evil Nun 2 Perché ho delle notizie davvero bellissime da mostrarvi E finalmente ho qui per voi il primo gameplay di questo nuovo gioco Ovviamente il gameplay non sarà fatto da me, sarà fatto dagli sviluppatori del gioco che l'hanno pubblicato E andremo a fare una reaction insieme Prima di cominciare mi raccomando, aggete qui sotto tantissimi like, condividete il video Iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina Se volete essere salutati qui sotto nei commenti basta che ve lo chiedete E io vi saluto direttamente sotto nei commenti Oppure se volete farmi qualche domanda io cercherò di rispondere alla maggior parte di tutti i commenti Ma ora finalmente direi di partire, direi di cominciare Però prima voglio partire qua con Evil Nun 1 perché voglio vedere una cosa, voglio farvi vedere una cosa Tocchiamo gioca, perfetto, fidatevi in questo video ci saranno un sacco di cose che scopriremo Gli sviluppatori hanno pubblicato cose veramente bellissime Novità molto importanti proprio del gioco stesso di Evil Nun 2 Non vedo l'ora di farvele ascoltare Ok giorno 1 ma tanto non andremo a completare il gioco perché prima voglio far vedere questa cosa E poi dopo passeremo alle novità di Evil Nun 2 Ok, devo lasciare questa scuola, va bene, sì sì, mettiamo solo qua l'interfaccia Che ogni volta gioco sempre senza interfaccia Ma dai, ma dai, ma perché, perché apri qua il coperchio perfetto Apriamo qua la porta Tra l'altro l'altro giorno nel video che abbiamo fatto su Evil Nun Vi ho mostrato, vi ho spiegato la storia reale dei bambini della lavanderia Quindi se ve lo siete persi mi raccomando andatevelo a vedere Ok, scendiamo qua velocemente Scendi, 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 perfetto, perfetto Eccoci qua, siamo dentro il bunker Siamo dentro la stanza dei calici Ma sono venuto qua per un motivo molto particolare Per leggervi uno dei quadri che adesso andiamo qua a cercare Non lo so qual è, vediamo se è questo Ah, qui parla del campeggio estivo Praticamente questi sono i quadri che ha scritto il bambino dalle mani blu Ha lasciato questi vari quadri che si sbloccavano facendo capitolo per capitolo Qua parla di un campeggio estivo Però abbiamo scoperto che questo campeggio estivo è molto collegato a quello che c'è su Ice Cream 3 A proposito di Ice Cream 3 Tra qualche giorno vi farò un video dove parleremo di Ice Cream 4 Perché tutti i giorni mi trovo sempre i commenti che mi chiedono di Ice Cream 4 Quindi ho deciso tra qualche giorno di fare un video dove parlerò di quello che sappiamo attualmente del quarto capitolo Di quello che ci sarà Ok, comunque non era questo il quadro Vediamo se è questo No, 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 no Qua parla della torre di cose, di scatole con cui è riuscito a scappare il bambino dalle mani blu Infatti il bambino dalle mani blu è scappato da qua Vi faccio vedere da questo punticino Ok, prendiamo pure le monetine già che ci sono Le accetto volentieri È riuscito a creare una torre di scatole così alta da riuscire a scappare da questa botola Infatti poi scappando di qua se n'è andato via È riuscito ad andarsene via dalla scuola della suora Ok, usciamo qua Perfetto, perfetto Vediamo quale Devo trovare il quadrodatto Ok, la lavanderia è piccola e noi siamo sempre più bambini qui Eh sì, perché la suora puntualmente portava sempre nuovi bambini dentro quella lavanderia Quindi si accumulavano sempre di più Sempre di più E questi bambini erano tutti con quella maschera brutta che le metteva la suora Ok Vediamo questa Ah no, qua fa la descrizione Lei è alta e magra ma ha un odore un po' strano Ma ti ci abitui velocemente con la maschera che tutti noi abbiamo Non siamo infastiditi dagli odori Tutto il giorno gira per la scuola Quindi in poche parole La nostra cara suora Puzza Puzza questa suora Ah ma cara suora Ma cari volnan Ma vatti a fare una doccia Ma vatti a lavare Vediamo se questo invece Penso di essere il più vecchio dei ragazzi Qui il bambino dalle mani blu Quella suora del diavolo non ha pietà Ecco Sentite bene La suora del diavolo Fidatevi Questo è una cosa molto importante Una frase molto importante Perché presto Più avanti nel video Vi faccio sentire un audio Che riguarda i volnan 2 Riguarderà anche L'introduzione di un nuovo personaggio Fidatevi Sarà qualcosa di misterioso Finalmente possiamo iniziare a scoprire Qualche segreto in più della suora Che noi prima non conoscevamo Ok comunque non è questo il quadro Vediamo questo Presevo di andare in un campeggio estivo Sono qui da molti giorni Sì vabbè Qui parla che è rimasto nel campeggio da tanto tempo Non riesce a scappare E dove si trova sto quadro? Qual è il quadro? Non mi ricordo più qual era Ah no no è questo qui il quadro Questa frase qua che dice La suora cattiva è ora la mia unica famiglia Lei fa quello che può Ma lei non sa che cosa sia l'amore Non da quando quella disgrazia è accaduta Vuol dire che il bambino dalle mani blu Sa qual è questa disgrazia Lui ha assistito a quello che è successo E se questa disgrazia fosse accaduta su Evil Nan 2 Effettivamente proprio gli sviluppatori hanno detto che questo quadro è molto collegato di Evil Nan 2 Molti tra l'altro mi hanno pure detto che il personaggio di Evil Nan 2 potrebbe essere il bambino dalle mani blu Non lo so Su questo non so dirvi anche perché se poi il bambino dalle mani blu è stato imprigionato in lavanderia Invece su Evil Nan 2 presumo che il personaggio riesca a scappare in qualche modo Almeno ci spero Speriamo che riesca a scappare no? No se no che brutto finale sarebbe se venisse imprigionato nella lavanderia A meno che poi nel finale il personaggio che magari potrebbe essere il bambino dalle mani blu Riesce poi a scappare dalla lavanderia Quello potrebbe essere un ottimo finale Va bene Ecco qua Adesso però andiamo ad analizzare una cosa Vi faccio vedere tutte quante le news che hanno pubblicato gli sviluppatori riguardo Evil Nan 2 La prima cosa che andremo a sentire sarà una colonna sonora La colonna sonora della suora di quando ci rincorre O almeno penso che sia la suora O qualche altro nemico La seconda cosa sarà un dialogo Un personaggio che parla Un personaggio segreto Misterioso Un'entità Che parla con la suora e le dice qualcosa Qualcosa di veramente strano e inquietante Mentre infine terza parte Andremo a vedere Faremo la reaction al primo gameplay di Evil Nan 2 Perché finalmente c'è un primo gameplay In realtà è solo questione di qualche secondo no? Però è già qualcosa di bello Vediamo già finalmente una parte del gioco Anche se si tratta solo di qualche secondo Ok adesso ascoltiamo qua La musica di sottofondo che ci sarà su Evil Nan 2 In realtà la musica è ancora in fase di lavorazione Infatti proprio gli sviluppatori hanno scritto Work in progress Vuol dire che comunque ci sono ancora dei lavori in corso Potrebbe cambiare con l'uscita del gioco Oppure potrebbe non cambiare Oppure potrebbe essere totalmente diversa Non lo so però ci vogliono già far sentire Questa prima musica Che dovrebbe essere la musica di quando la suora ci rincorre Ok tocchiamo play Che dovrebbe essere la musica di quando la suora ci rincorre Avete sentito bene? Questa sarà la musica Una delle musiche che ci sarà su Evil Nan 2 Mamma mia Già la musichetta così mi sta piacendo Mi sta piacendo io dalle immagini che vedo Da tutte le anticipazioni che stiamo vedendo Io non vedo l'ora di giocarci a questo gioco C'è il bello che sto gioco neanche esiste Io già ci sto facendo una serie Forse sono l'unico youtuber che sta facendo una serie su un gioco che ancora non esiste Che non è stato pubblicato E tra l'altro però sono contento che questa serie viene supportata Grazie mille io vi ringrazio davvero tanto Ma adesso comunque partiamo al secondo Diciamo secondo audio Che in realtà è un dialogo E anzi più che dialogo è questo qua che inizia a parlare Di qualcosa di strano Ve lo faccio sentire una volta È in inglese Però dopo ve lo faccio riascoltare Dove vi traduco io in italiano tutto quello che viene detto Ok 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 sicuramente molti di voi potrebbero non aver capito il che ci sta perché comunque sono frasi dette in inglese Adesso ve le faccio riascoltare però ve le traduco in italiano dove vi spiego tutto Vi dico soltanto che questa persona che parla dice di chiamarsi Nazrat Ma chi sarà mai questo Nazrat? Noi non abbiamo mai sentito un Nazrat proprio nella serie né di Volnan né di Ice Cream Ho citato Ice Cream perché sappiamo che Rod è il figlio di Volnan Adesso ve la faccio riascoltare e vi traduco in italiano frase per frase Ok è ripartita la musica sta partendo vediamo vediamo La tua sofferenza mi ha invocato Quindi comunque questa persona è stata invocata dalla sofferenza Se è stata invocata non può essere allora una persona Perché noi comunque non è che evochiamo le persone Io quando devo non so parlare con il mio amico non è che evoco il mio amico Amichetto io ti evoco Non funziona così lo chiamo direttamente Questo invece è stato invocato è stato evocato Oh mamma mia cosa avrà mai combinato Tra l'altro noi sappiamo che la suona ha pure dei polli mutanti Mamma mia proprio tutta roba strana Cioè sta Evonnan nascondeva le cose già da anni ancora prima di Evonnan 1 Va bene andiamo avanti qua con la prossima frase Così io sono qui Il mio nome è Nazrat Il nome di questa entità non sappiamo chi sia Non sappiamo che faccia abbia Ma sappiamo che si chiama Nazrat Però adesso andiamo avanti perché questo Nazrat Fa delle cose un po' particolari Adesso lo scoprirete Tu non sei stata una donna esemplare A chi si sta riferendo? A chi è che ha detto non sei stata una donna esemplare? A Evonnan? Oppure ad un'altra persona? Io penso secondo me che si stesse riferendo a Evonnan A Sister Madeline Che comunque noi abbiamo visto già nel trailer Che questa suona ha qualcosa Già la vediamo così sul tavolo Che faceva in questo modo no? Tutto strano Quindi questo significa che Evonnan Ha comunque qualcosa dentro di sé Soffriva di qualcosa Non sappiamo di che cosa ancora Però sono già sempre degli indizi Pian piano le tessere del puzzle Si stanno ricomponendo E stiamo scoprendo sempre cose nuove Sempre di più Andiamo avanti qua Ma tu hai ancora il tempo Per redimere te stessa Perché deve redimersi? In che modo si potrà redimere Evonnan? Lo vediamo fra poco Io posso garantire il tuo desiderio inumano Disumano Qual è questo desiderio disumano Che sta chiedendo la suona? Cioè io do per scontato che sia la suona Altrimenti A chi stava parlando se no? Quale sarà mai questo desiderio? Quello di avere i polli mutanti? Quello di diventare Evonnan? Non lo sappiamo Anche perché che motivo ci sarebbe Di diventare Evonnan? Con tutto quello che ha combinato Quale sarà? Ma soprattutto questa cosa Sarà collegata con Rod Questo Nasrat Sarà collegato con il gelataio? Ho visto delle teorie Dove raccontavano che Rod Il gelataio Sia proprio la reincarnazione Di qualche entità spirituale E se fosse la reincarnazione Di Nasrat? Mmm Molto strana Molto strana Andiamo avanti Ma io ti chiederò Qualcosa In scambio Per scambio Quindi questo qua Gli esaudisce il suo desiderio disumano Ma vuole qualcosa in cambio? Chissà Chissà cosa chiederà in cambio Io sono sempre più convinto Che sia sempre collegato con Rod Il figlio di Volnan Cosa chiederà? Effettivamente anche perché Questo figlio L'è stato proprio dato via Tolto via dalla suora E quindi Boh Non lo so Andiamo avanti Ah ok Finisce così E' finito così il dialogo Questo diciamo Vi ho spiegato un po' verbalmente Così a voce vi ho tradotto Che cosa viene detto qua? Ma adesso penso che Arriviamo a uno dei momenti Molto più importanti Adesso andremo a vedere Il primo gameplay di Evil Nun 2 Anzi i primi secondi del gameplay Vediamo qua Ecco qua Questo è il primo gameplay Possiamo già notare ad esempio Le prime icone Come ad esempio qua Il pad per muoversi Il personaggio qua Ok il cassetto Gli sviluppatori hanno detto Di fare molta attenzione ai dettagli Come possiamo vedere Siamo nella stanza Quella del trailer Quindi presumo che sia La stanza dello spawn Guardate bene una cosa Aspettate Guardate bene qua Noi possiamo vedere Le mani del personaggio Sì finalmente Anche qua possiamo vedere Le braccia del personaggio Parti del corpo Questa è una grande evoluzione Perché su Evil Nun E sulla serie di Ice Cream Noi non potevamo vedere Ad esempio il braccio del personaggio Sì su Mr. Meat Sì Su Mr. Meat Noi potevamo vedere Ad esempio Quando il personaggio raccoglieva qualcosa Ma non nella serie di Evil Nun E di Ice Cream Ok andiamo avanti Qua ha raccolto un pezzo segreto Non so che cosa serva Ma va bene Ok Vediamo qua Ok ci sono i polli mutanti Quello sta lì dormendo Buonanotte pollo Buonanotte Ok vediamo invece dall'altro lato Lì ci sono delle uova In tanti me l'avete fatto notare Mi avete fatto notare Le uova che stavano lì sopra Non so cosa servono effettivamente Però ci sono ste uova Ok e ora La porta si apre È partita la musica Appena la porta si è aperta È partita la musica Avete sentito E avete visto anche lì Che c'è l'altro pollo mutante Che sta dormendo lì davanti Sarà un pollo buono messo di guardia O un pollo cattivo Non lo so Non ne ho idea Va bene dai Direi di fare una cosa Direi per ora di fermarci qua con questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Ma soprattutto fatemi sapere le vostre opinioni Perché le vostre opinioni per me sono molto importanti Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalliciate E condividete E iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Buona serata E una buona notte Ciao a tutti E tanti cari saluti Da EvilNan2 Ciao